Violet, una giovane donna proveniente da una piccola città, si trasferisce a New York City con il sogno di diventare una famosa cantautrice. La sua vita prende una svolta inaspettata quando inizia a lavorare come cameriera al Coyote Ugly, un locale notturno famoso per le sue bariste che, oltre a servire, ballano e cantano sul bancone, creando un'atmosfera vivace e provocatoria. Nonostante la sua timidezza iniziale, Violet acquisisce fiducia in se stessa e conquista il rispetto delle sue colleghe e dei clienti del bar, mentre cerca di realizzare i suoi sogni musicali. Un cast di talentuose artisti, un musical originale coinvolgente che porta sul palcoscenico l'omonimo film del 2000, Le ragazze del Coyote Ugly. Prodotto da Tutti in Scena, Cultura e Spettacolo, arriva al teatro Van Westerhout di Mola di Bari, lo spettacolo che promette di trasportare il pubblico in un mondo di emozioni e intrattenimento. In quest'ora e mezza il pubblico sarà trasportato in un'altra realtà, proprio come la protagonista Violet, che decide di spostarsi da un paesino nella grande città che è New York, per coronare il suo sogno, il suo sogno di diventare cantante. Affronta diverse difficoltà, anzi numerose difficoltà, però alla fine, con il sudore, con lo studio, con la passione, beh, i sogni si realizzano.